Il complemento di limitazione. Iniziamo con una serie di esempi. Giuseppe è un uomo forte di spirito. Di spirito risponde alla domanda limitatamente a cosa? È forte soltanto di spirito, limitatamente allo spirito, mentre ad esempio non è forte di intelletto, di intuito o di iniziativa. Precisa entro quali limiti o quali ambiti ciò che è detto da un aggettivo, nome o verbo come nell'esempio seguente. Mara è diplomata in informatica risponde alla domanda limitatamente a cosa? È diplomata solo limitatamente in informatica, mentre non è diplomata ad esempio nelle altre materie, matematica, scienzo o italiano. Quindi precisa sempre i limiti e gli ambiti di ciò che è detto da un aggettivo, nome o verbo. Hai ragione per noi? Per noi risponde alla domanda limitatamente a chi? A noi. Cioè hai ragione limitatamente per noi, ma non hai ragione per tutti, per loro, per lui ad esempio. Quindi vediamo che è una parte rappresentata dalla torta per cui quella parte rappresenta il limite che viene espresso. Precisa i limiti, gli ambiti di ciò che è detto da un aggettivo, nome o verbo. Tu sei forte quanto a coraggio, cioè limitatamente al coraggio, ma non sei forte ad esempio quanto a intuito, a furbizia o bravura. Precisa il complemento di limitazione, entro quali limiti o ambiti ha valore ciò che è detto da un aggettivo, nome o verbo. Risponde alla domanda limitatamente a che cosa? È introdotto da di, da in, per, a, quanto a, per me, secondo me, a mio avviso, a mio giudizio, dal mio punto di vista rispetto a, secondo la mia opinione, a parer di, per quanto concerne. Facciamo altri esempi. Luca è bravissimo in musica, limitatamente alla musica. Anna è unica in quanto ad antipatia, cioè è unica limitatamente all'antipatia. Il film è bellissimo, a mio giudizio, e cioè limitatamente al mio giudizio il film è bellissimo, ma ad esempio a giudizio di Leo? No. A giudizio di Isa? No. A giudizio di Luca? No. A giudizio di Marco? No. Gianni è invincibile nello sci, ma limitatamente allo sci, mentre non è invincibile nel nuoto, nel calcio, nel pattinaggio o nel tennis. Altri esempi. Matteo è esperto in astronomia, mentre in altre materie no. Giulio è noto per la sua passione per le moto, è noto limitatamente alla passione per le moto, ma non per altre cose. Matteo è pratico di cucina. Per altre cose no. Giuseppe è adatto a questo lavoro, è adatto limitatamente a questo lavoro, ma non è adatto ad altri lavori. Ivan è bravo in ambito informatico, limitatamente all'ambito informatico. Giorgia è la più giovane di età, limitatamente all'età. Giulio vince tutti per simpatia. La manifestazione in ambito nazionale, quindi limitatamente all'ambito nazionale e non europeo, ad esempio, Gianni domina in campo medico, ma non è in altri campi. La casa si trova qui da come riportato sulla mappa, cioè limitatamente a quello che c'è scritto sulla mappa. La casa si trova qui. Per quello che dice il mio amico, no. Dino è adatto a parer nostro, cioè limitatamente al nostro parere. Iscriviti al canale e buon lavoro.